Ciao Stefano, che cosa stai preparando? Stiamo preparando la sognocca di barbabietola cotto nel suo estratto che andiamo a mantecare semplicemente con burro, soia e appunto l'estratto di barbabietola poi sopra ci andiamo ad adagiare una mostarda, sempre di barbabietola che produciamo noi dove si lasciano maturare le barbabietola per due giorni sotto zucchero poi vengono cotti con un estratto di senape e del finocchio latte fermentato lasciato sotto acqua e sale per 5 giorni che gli dà una nota vegetale al piatto e fresca andiamo a concludere il tutto con una leggera fonduta di blu e questo piatto è stato preparato da Stefano Rudino di Autentico Piascom